A questo punto do la parola al dottor Guido Giustetto per il suo intervento, il punto di vista del medico, il medico di famiglia, del medico in tutti i contesti in cui le vaccinazioni appunto sono poi storia. Prego, dottor Giustetto. Grazie, ringrazio la regione Piemonte per darci la possibilità di raccontare qualche cosa di scientifico sul problema dei vaccini, cercando come è stato detto prima di togliere dei dubbi, togliere quei timori che possono rendere le persone più esitanti a vaccinarsi. Guardate, l'umanità affronta le epidemie da sempre, da quando l'uomo esiste ci sono state delle epidemie, sono citate nella Bibbia e via via se guardiamo la storia, tu Cidide, possiamo vedere come nei millenni ci sono sempre state delle epidemie e purtroppo sempre gli uomini hanno pagato un prezzo molto elevato all'epidemia, hanno pagato un prezzo in vite umane ma anche in sviluppo delle capacità umane di progredire. Le epidemie sono state veramente un grosso fardello per l'umanità. L'ultima che ricordiamo tutti è la Spagnola dove le statistiche ufficiali dicono che ci siano stati 39 milioni di morti ma altri storici invece dicono ma no, è che non li contavano tutti. In realtà possiamo anche immaginare che i morti siano stati quasi 100 milioni, quindi immaginate il numero, la portata di questi numeri. Ma la Spagnola, tutti ce lo ricordiamo per averlo letto ovviamente, è un'epidemia, un'influenza che c'è stata 100 anni fa. In questi 100 anni che ci allontanano da quella tragedia non è che non abbiamo avuto altre epidemie, abbiamo avuto degli episodi molto significativi, ne ricordo due. Uno è quello dell'influenza asiatica degli anni 50 che è stata molto pesante per l'umanità e un'altra epidemia che per fortuna si è limitata ai paesi dove è insorto perché probabilmente riguardava delle enclave che non erano portate dei grandi movimenti per cui il virus è rimasto lì e l'epidemia di Ebola che però ci ha spaventato moltissimo quando è venuta fuori perché aveva delle caratteristiche anche di gravità enorme. Richiamo queste cose per dire che è molto strano che di fronte a questa storia, queste cose che sappiamo, ogni volta che arriva un'epidemia l'uomo stenta a crederci. È come se fosse una sorpresa. Non siamo preparati, non ci abbiamo pensato che poteva capitare e questo è stato forse ancora più presente in quest'ultima situazione del coronavirus perché negli ultimi 50-60 anni abbiamo avuto uno sviluppo così importante nelle terapie contro le malattie infettive mi riferisco agli antibiotici ma anche ai vaccini che sembrava quasi impossibile che le malattie infettive potessero farci dei danni. Le malattie infettive non erano più attuali, non erano più, come dire, anche da un punto di vista della medicina, non erano quasi più interessanti, erano interessanti altre cose. E il problema qual è? Che poi quando arriva l'epidemia davvero, noi non è che abbiamo pronto, belle pronto, un vaccino. Per cui ci siamo dimenticati della necessità di fronteggiare le malattie infettive, quando arriva l'epidemia siamo in qualche modo senza armi. Adesso abbiamo una fortuna nel caso del coronavirus, è quasi incredibile, io ve lo dico come medico pratico, ma anche rappresentando un po' quello che tutti i colleghi che io rappresento sentono. Siamo quasi increduli di fronte al fatto che in dieci mesi, meno di dieci mesi in realtà, sia stato possibile creare un vaccino efficace senza effetti collaterali importanti e già pronto per diffonderlo alla popolazione. E quindi sarebbe veramente paradossale se adesso non sfruttassimo nel modo più efficiente possibile questo strumento. Perché dico questo? Voglio farvi un esempio, voglio fare un riferimento a una vecchia malattia. Parlo del vaiolo. Allora, pensate, tutti più o meno sappiamo la storia del vaiolo. Un medico inglese che si chiamava Edward Jenner nel 1796 ha l'idea di poter risolvere in qualche modo il problema della malattia del vaiolo inoculando da delle pustole di vacche, da qua il nome vaccino, in un bambino per vedere se lo rendeva resistente. Non tutti fanno riferimento a un'altra data, alla data del maggio 1980. L'8 maggio 1980 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che il vaiolo non c'è più. Il virus del vaiolo è stato eradicato. Allora, pensate, ci sono voluti 180 anni perché un vaccino che fin dall'inizio era piuttosto efficace, ci sono voluti 180 anni perché questo vaccino eradicasse una malattia, una malattia molto diffusa. Gli storici, gli storici della medicina, si sono interessati a questo, hanno cercato di capire come era possibile. E hanno, come dire, hanno individuato tre fattori che io credo sia importante riprenderli anche adesso e hanno detto il motivo per cui ci abbiamo messo così tanto pur con un vaccino efficace è uno, l'ignoranza della popolazione. E io vi dico un'altra cosa come medico, mi dispiace dirlo, l'ignoranza anche di parte dei medici perché quando esce, quando è uscito il vaccino non è che Jenner fosse portato subito sugli altari. ci ha messo un po' per essere riconosciuto. Quindi l'ignoranza, quando dico ignoranza, guardate, non è un giudizio critico che io do, è proprio il fatto di non sapere, di non conoscere i vantaggi, gli svantaggi, le problematiche che porta un vaccino. Quindi l'ignoranza della popolazione, cosa porta l'ignoranza della popolazione? Porta a un secondo problema che è il dubbio, il sospetto, l'esitazione, ma chissà cosa mi fanno, chissà che cosa c'è nel vaccino, chissà se veramente mi proteggerà. E terzo elemento, che secondo gli storici ha rallentato le capacità del vaccino di bloccare il vaiolo, è stato il grande problema della distribuzione del vaccino. Siamo nell'Ottocento, attenzione, siamo nel Novecento, quindi avevamo problemi diversi da oggi. Ma se ci pensate un momento e pensate agli articoli che leggete sui giornali in questo periodo, ignoranza, sospetto, difficoltà di distribuzione è ciò di cui stiamo parlando. Stiamo esattamente parlando di queste tre cose. Ora, io credo che in questo momento ignoranza, sospetto, difficoltà di distribuzione sono tre cose che non devono più capitare. Non devono capitare in questi mesi, perlomeno, mentre stiamo riuscendo a partire con una grossa e verosimilmente molto efficace campagna vaccinale. C'è una grande differenza, l'ho detto, dal 1796, però io sono certo che non ci vorranno 180 anni, ma io non sarei contento neanche se ci volessero 180 mesi o 180 settimane. Io esagero, ma dico, io vorrei che in 180 giorni risolvessimo il problema. Questo è l'obiettivo che il vaccino ci può permettere di raggiungere in maniera realistica. Per questo è importante che tutte le quantità di vaccini di cui abbiamo bisogno siano disponibili, ma soprattutto sono necessarie due cose. che molte persone vengano raggiunte e che vengano raggiunte in poco tempo. Questi sono due requisiti estremamente importanti. I medici di ogni categoria e ovviamente anche gli altri operatori sanitari si sono messi a disposizione per vaccinare. Voi sapete che la prima fase ha riguardato il personale sanitario, gli operatori e gli ospiti dell'RSA e ora tocca tutto il resto della popolazione. cominciando dalle persone più fragili e più anziane. Per essere sicuri di raggiungerle tutte e in tempi brevi la regione Piemonte ha fatto un accordo molto importante con i medici di famiglia. Perché con i medici di famiglia? Perché i medici di famiglia sono i medici più vicini alla persona, sono i medici della prossimità. conoscono le persone da molto tempo, le singole persone, e tutte le valutazioni che vengono fatte ci dicono che i medici di famiglia riscuotono una grande fiducia da parte dei loro assistiti. E il fatto di conoscerli bene permette anche un'altra cosa, permette di, verosimilmente, di avere una alta adesione da parte dei cittadini alla vaccinazione, bloccare quel rischio di esitazione, di dubbio che ci può essere, e permette anche un'altra cosa, quella di convocare i pazienti anche secondo una gradualità della maggiore necessità. Quindi cominciando con i loro pazienti che hanno un maggior rischio. Aggiungo un'altra cosa, ci sono anche molti medici, ma veramente io ho ricevuto molte richieste di colleghi in pensione, ma non solo colleghi in pensione, che mi dicono che vogliono andare a vaccinare. Si offrono volontariamente per costruire delle squadre di vaccinatori e aiutare a raggiungere in fretta una buona parte della popolazione. E lo stiamo facendo, le stiamo organizzando, queste squadre di vaccinatori, organizzandoci ovviamente con le ASL che hanno bisogno di personale. Perché, guardate, le vaccinazioni, vaccinarsi, non è solo un modo di proteggere se stessi, ma è anche un modo di proteggere le persone con cui viviamo. Il vaccino, ci verrà spiegato adesso, è uno strumento ad altissima tecnologia. È sorprendente come sia stato costruito questo vaccino. Non abbiamo uno solo, molte imprese, molte ditte si sono buttate a studiare come produrlo e quindi abbiamo la possibilità anche di scegliere tra diversi modelli. Ma i primi che abbiamo usato, quelli che stiamo usando in questo momento, sono vaccini che forse non erano immaginabili due anni fa. È veramente stato un salto di qualità enorme. Quindi è un'altissima tecnologia quella che c'è dietro ai vaccini. Io però voglio spezzare una lancia nei confronti anche della bassa tecnologia, degli strumenti che abbiamo, semplici, che però fino adesso abbiamo utilizzato e guardate, se li utilizziamo bene ci hanno permesso di, in qualche modo, di resistere, poter aspettare che arrivasse il vaccino. E cosa voglio dire? Io voglio parlare, voglio parlare, voglio citare le mascherine, il distanziamento, l'igiene delle mani, l'isolamento delle persone, quando abbiamo delle persone che sono sospette di malattia o proprio sono malate. Ecco, non dimentichiamoci tutti questi strumenti. Quindi da una parte altissima tecnologia, dall'altra chiamiamola pure bassa tecnologia, ma ci ha permesso di sopravvivere fino adesso. Non dimentichiamoci anche questi aspetti. Se tutti riusciamo a collaborare utilizzando tutto quello che abbiamo a disposizione, dal vaccino alla mascherina, probabilmente usciremo da questa tragedia. Ne usciremo prima e con un po' meno di danni. Io concludo augurando a tutti una buona vaccinazione. Grazie. Grazie.